Gli ebrei patirono indicibili sofferenze nei campi di concettamento nazisti, ma composero anche delle musiche, musiche voi direte sì, quella era una forma di lotta contro il nazismo che in omaggio alla loro tradizione consentiva a molti ebrei di astrarsi da quei corpi in putrefazione accanto ai quali, come vedremo nel film documentario che vi stiamo per trasmettere, loro accompanevano queste musiche, la musica è vita e la musica è anche lotta, c'è un musicista italiano, Francesco Lottoro, musicista di belletto che da 30 anni sta inseguendo questi spartiti per metterli tutti insieme e li è andato a cercare in ogni parte del mondo e ne ha trovati già 4 mila, altre migliaia stanno per arrivargli ed è un documento, quello che abbiamo intitolato Il Maestro, impressionante di questa forma di resistenza al nazismo.